Dice che oggi è il giorno, è stata attesa a questo giorno. Lei è già stata protagonista con noi all'altro ultracycling evento che c'è stato qualche mese fa sempre parte del percorso di ultracycling del campionato e dice che è stata molto bene ed è sicura che anche in questa edizione della Dora Mitica sarà tutto bene. Daniela, come train in Brasile, con diversi tempi e diversi tempi? Un minuto, un minuto. Ok. Io ho trainato in Rio de Janeiro, ho i montaggi e i pieti. A tutti i tempi è freddo. Il nostro vento è come il giorno, ma penso che sia bene. E questo è... E cosa ti portare ai montaggi? Il Rio de Janeiro, ai montaggi e alle Alps? Sì. Non è come la stessa, ma ho i montaggi bellissimi in Rio. Cicciccola, ciccola. Ciccola, ciccola, ciccola. Questo mi ha aiutato a toccare il potere e aiutare. Ciccola, ciccola, ciccola. Ciccola, ciccola. Oh, gli ho chiesto come se l'era in Brasile e dice che il Rio de Janeiro è sempre tanto, c'è la spiaggia, c'è tanto caldo, sempre caldo, dice che quando l'è inverno è come la nostra estate. Ok, io credo che ora è l'ora di andare, Daniela. Il tempo ha il giro di andare, ha l'ora di andare, ho 3 secondi per andare. Tutti i migliori per tutti. Daniela, go Daniela! Go, go, go Daniela Geramesi Da Brasile Alla Dolomitica Quinta